Un momento dolcissimo di Federico raccoglie alcune fotografie dei suoi ricordi e li attacca al muro e li mostra al piccolo leone. La foto più bella è l'ambulare scattuto da lei. La mia preferita, in assoluto. Sono tutte le nostre foto e ci sono anche le foto che hai scattato tu. Guarda, questa qui è quella che hai scattato tu. Vero? Lo capirei da grande, amore. E queste sono le cose più importanti. I ricordi, i bei ricordi, amore, sono le cose più belle che abbiamo. Leone porta mamma Chiara a vedere cosa ha fatto il suo papà. Lei con gli occhi chiusi e arriva e rimane stupita.